Oioio, 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 coccimale, iacimale, eeeh, coccimale, iacimale, eeeh, Oioio, 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 coccimale, iacimale, eeeh, coccimale, iacimale, eeeh, eeeh, coccimale, iacimale, 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 iacimale perché stanno guidando i nostri raimenti. Che non ci ha vergognito di parlare il nostro idioma, perché i nostri ancestrii ci hanno lasciato per parlare. Grazie a tutti, perché con il nostro coraggio caminiamo per parlare il nostro idioma. Grazie a tutti, vogliamo cantare e a cantare, vogliamo cantare, vogliamo cantare, vogliamo cantare, vogliamo cantare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a questo patrimonio che è di tutti noi. Quando il gancho pin l'ego, quando il gancho pin l'ego hace già 500 anni a tutti i mexicano Esos indios emplumados caminaban con destreza e di sua civilizzazione e di sua civilizzazione habla il calendario di Eccan Eccan Lo dice la cancion los que nos conquistaron nos quisieron destruir todo lo que tenemos pero mas in cambio aqui estamos los indigenas sosteniendo esa raiz profunda quiero platicarse del primer canto fue un canto de pubertà donde las mujercitas cuando llega ese momento sagrado de la vida anuncian sobre la montaña precisamente que están preparadas para dar mas vida y es por eso que existen los pueblos indigenas y que somos parte de él la verdad es increíble nos sentimos muy contentos muy satisfechos porque aquí estamos los mixtecos yontó nechidavi aquí están los mixtecos yontó 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 yup Italico, Italiano, Italiano Italico, Italiano